No, se vogliamo dire tutto, a me dispiace dirlo. A Milano il punto vendita Tiffany era qua. Perché lui ha detto Tiffany, è inutile andare a Monte Napoleone, via della Spiga, via della moda quadrilatero, Tiffany è qua. Ci sono orecchini, collane, c'è tutto. Purtroppo, allora, Tiffany, la gioielleria più in del mondo, la sede europea centrale che ha oggetti esclusivi, che non fa pubblicità nessun periodico, è tutto nascosto, non lo sa nessuno. Noi stiamo andando nell'atelier di Tiffany, che è una roba che nessuno avrebbe pensato, una roba del genere. George Clooney, il girocollo più esclusivo che ha regalato la Canalis ieri, è venuto qua da Tiffany, a Milano, sulla sponda dell'Ambro, perché ormai siamo a questo punto, le cose si fanno tutte al contrario.